Allora è pronta signorina? Sì maestro Correga la posizione dell'archetto Bene così Fa La Mi Re Mi Fa Attenzione al Mi Mi scusi Sol Si Fa Son La Si La Si Do La Fa Che Cosa Mi Sta Succedendo Una Tenerezza Che Io Non Ho Provato Mai Lo So Che Mi Sto Innamorando Ma Non Ho Il Coraggio Di Confessarlo Neanche A Me E' Innamorato Di Te Ed Ho Trent'anni Di Più Tu Perché Guardi Me Hai Capito Già Io Vorrei Dirti Che Forse Tu Lo Sai Forse Tu Lo Sai Bene Segreto E Profondo Una Cosa Dolce Che Io Nascondo Dentro Me L'Amore 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 Più Grande Del Monto Nato Troppo Tardi Ormai Per Un Uomo Come Me E' Innamorato Di Te E' Innamorato Di Te E' Do Trent'anni Di Più Bene Allora Ci Vediamo Dopodomani Signorina No Maestro Giovedì Allora No Maestro Non Verrò Più E Perché? Ha Deciso Di Non Continuare A Studiare? No Maestro Ma Perché Allora? Perché Sono Innamorata Di Lei Non Verrò Più Non Verrò Più Non Verrò Più Non Verrò Più